Prendi uno dei Ghost! Trasferisco energia dai tuoi scudi per sovraccaricare il propulsore del Ghost. Trasferisco energia dai! Trasmissione di emergenza dall'Infinity. 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 Il nucleo non leggerà ancora a lungo! Portale davanti a noi! Wow, Cowboy! Chief, là! Mayday, Mayday! Qui è il capitano della CST Infinity. Un'entità sconosciuta ha il controllo della nave. Siamo senza energia e in rotta di collisione con un pianeta dei precursori. Traccia valida. Acquisizione. Impatto previsto 77,8 chilometri a nord. Sai dov'è diretto? Dove siamo diretti noi? Dove siamo diretti noi.